La poragine, insomma, è passato il momento dell'infortunio, un po' fastidioso, ma alla fine sei tornato in campo. Che cosa era successo in quelle settimane? No, niente, dopo la partita di Miliani ho avuto un piccolo stiramento, sono dovuto stare fuori per un paio di settimane e quindi la condizione fisica è scesa un pochettino, però già la settimana scorsa ho ripreso dalle armi con continuità e quindi ho ripreso a pieno ritmo. Tutto sin troppo facile con il canestro, ti aspettavi di vedere una squadra così allo sbando? Sicuramente quando trovi dei ragazzi in grosse difficoltà a livello, a parte calcistico, perché loro erano veramente in difficoltà e infatti purtroppo per loro è andata così, però quando vedi dei tuoi, tra virgolette, compagni in grosse difficoltà come societari, economiche, dispiace perché ci si può trovare chiunque in quelle situazioni. Hai visto anche qualche giocata deliziosa da parte tua, tipo la traversa, tipo l'assist per i gol di Masini? Sì, c'era qualche giocata importante, forse quando le cose vanno al meglio è più facile che riesce un po' tutto e in questo momento sono contento che sta andando così. Tu anche conosci la Re Canatese perché hai già giocato contro questa squadra, ad esempio lo scorso anno con la Sant'Egidiese che parere hai di questo incontro e di questo stadio Tubaldi che non ha un campo perfetto? La Re Canatese ha avuto sempre una squadra molto ostica, molto fastidiosa, ha fatto sempre il suo campionato nelle zone basse e medie basse della classifica è un campo veramente difficile dove è un po' impraticabile, quindi per noi domenica ne aspetta una partita molto difficile noi sappiamo quello che vogliamo e sappiamo che ora come ora dipende solo da noi e quindi sappiamo che lì è una partita molto difficile, andiamo là con l'obiettivo di vincere e di raggiungere l'obiettivo il prima possibile. Anche tu sposi la linea dei tuoi compagni, cioè prima pensiamo alla matematica, poi al limite parliamo di futuro. Il futuro è presto perché il futuro è il presente di ora, per noi il nostro futuro è vincere questo campionato, chiuderlo il prima possibile e poi vediamo. Con Vitone ho parlato del Sulmona, ci prometti che tra qualche tempo ci parlerai del tuo Barletta? Eh magari, il Barletta è una grossissima piazza dove è veramente bello giocarci là, infatti li faccio con un grosso in bocca al lupo perché sta attraversando un periodo un po' particolare a livello di classifica, ma penso che prima o poi risaliranno la china.